sei un po impazzita stamattina no scusate guardate questo video fino in fondo cosa fa la vittoria sui divani nuovi in pelle e noi ci godiamo questo video fino in fondo perché chiara la sarà filmando con aiuto cosa succede ai nostri divani ma 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 cosa mangia sta bambina al mattino ciao bimbi qua ci sono le vostre letterine leone e vitto le metto qua per bambino natale guardate ecco chiara giusto per premiare vittoria leone del fatto che sono bravissimi soprattutto vittoria bambina che si comporta da dio fa le letterine di natale ecco qua ferragnes natalizi siamo oggi siamo in clima un po natalizio anche le strade erano piene di gente che comprava già i regali e adesso guardate la mia parte preferita del video guardate la gabri ferragni questo è ricky che la cocola no io amo i cari ecco qua